Il passaggio ad Aceato 2 è inesorabile a quanto sarebbe emerso dall'incontro tenutosi oggi tra il PIVI e l'assessore regionale Refrigeri. Anche la dirigente della Cancelleria del Tribunale, Giovanna Monaco, sottolinea l'importanza dei tirocinanti della giustizia necessaria per il funzionamento della macchina giudiziaria. Rifiuti la GESAM è sanzionata per quasi 200 mila euro e il Comune di Santa Maranella passa le vie di fatto contro la società che gestisce la differenziata e lo spazzamento. Calcio si gioca domani al ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, di scena Civitavecchia e Ladispoli. Ben trovati dal Tg Alto Lazio. Il passaggio ad Aceato 2 è inesorabile, questo quanto è emerso dall'incontro di oggi tra il segretario del Partito Democratico, Clemente Longarini, i consiglieri Paola Ritastella e Stefano Giannini e l'assessore regionale Fabio Refrigeri. A confermare il passaggio al lato 2 del servizio idrico della città portuale sarebbe stato proprio lo stesso Refrigeri, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. Il futuro del servizio idrico locale è già stato deciso dalla sentenza del Tardel Lazio e dalla sentenza del Consiglio di Stato. Questo quanto è emerso dall'incontro fra l'assessore regionale Fabio Refrigeri e alcuni rappresentanti del Partito Democratico. Secondo quanto riferito da Refrigeri, spiegano il segretario del PD Clemente Longarini e i consiglieri Stefano Giannini e Paola Ritastella, Civitavecchia è un caso a sé rispetto agli altri comuni, proprio perché la magistratura si è pronunciata in via definitiva, sentenziando l'obbligo di aderire al lato 2. E le sentenze vanno rispettate. Per questo motivo la regione ha dovuto essa stessa nominare un commissario ad acta che avrà pieni poteri e il cui nome sarà presto indicato. Insomma, dalle parole di Refrigeri, ha confermato Longarini, appare chiaro il passaggio a dato 2. Il progetto della società in house resta dunque in piedi per il medio tirreno. L'assessore Refrigeri ha inoltre dato piena disponibilità a tenere un incontro pubblico sul tema della gestione del servizio idrico, con particolare riferimento agli impegni legislativi del nuovo assetto degli Ato, in cui la regione sta lavorando con una nuova legge la cui approvazione è prevista entro marzo 2014. Rispondendo poi a Selle, che aveva chiesto ai Democrat di prendere una posizione chiara sull'argomento, Longarini ha tenuto a sottolineare che il PD non partecipa alle sedute spiritiche durante le quali è Selle che cade in trance, preda delle sirene della demagogia e dei fantasmi agitati dai movimenti. E intanto a esprimere soddisfazione per l'incontro avuto con l'assessore Refrigeri è anche il partito del vice sindaco Enrico Luciani, che pur confermando quanto dichiarato dal PD sulla situazione giuridica che obbliga la regione al commissariamento sull'acqua e di conseguenza al passaggio a dato 2, guardano positivamente a una nuova legge regionale, una legge ancora allo studio e che prevede la ripubblicizzazione del servizio idrico. Ed è proprio in questo senso che Evendogliani colpisce la celerità del Partito Democratico nell'anticipare il loro incontro con una visita sorpresa in regione. E a chiedere alla regione la sospensione delle nomine dei commissari ad acta è stato Donato Robilotta, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, sospensione che non riguarda però Civitavecchia. L'Aggiunta regionale, infatti, ha spiegato Robilotta, chiede un parere al CAL sulla nomina di eventuali commissari. Nel caso di Civitavecchia, contrariamente a quanto invece accaduto per la Dispolimo Anziana, Morlupo, Bracciano e altre città della regione, i termini per la presentazione del parere sono scaduti ancora prima del suo insediamento, avvenute il 15 maggio. E nonostante questo, nei giorni scorsi, a quanto pare, il presidente del CAL avrebbe incontrato il sindaco di Civitavecchia che non avrebbe contestato il passaggio al lato 2. Sono giorni che improvvisamente tolgono l'acqua nel quartiere senza alcuna comunicazione. La denuncia arriva dai residenti di Boccelle che in questi giorni si sono ritrovati più volte con i ruminetti a secco. Da un momento all'altro ci siamo trovati senza acqua, hanno spiegato con danni anche agli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie. Nessuna comunicazione, nessuno che ci ha informato di possibili lavori. Qualcuno si è rivolto direttamente all'assessorato competente sentendosi rispondere che a causa di una tubatura rotta in via Veneto si è proceduto a lavori di riparazione togliendo l'acqua. Ma nessuno ci ha informato, hanno tonato da Boccelle. Abbiamo dovuto subire molti disagi. Dopo il presidente del Tribunale, Gianfranco Mantelli, ad intervenire sulla nostra carenza di organico del Palazzo di Giustizia sulla necessità di non perdere la collaborazione dei tirocinanti ma anche sui problemi logistici della struttura è la dirigente della Cancelleria, Giovanna Monaco. Sentiamo in questa intervista. Dottoressa Monaco, da fine estate lei è stata assegnata come dirigente della Cancelleria del Tribunale qui a Civitavecchia. Si è subito tuffata negli annosi problemi di carenza di organico. Sì, effettivamente ci siamo resi conto che la dotazione organica non è corrispondente al personale effettivamente in servizio presso il Tribunale e stiamo facendo salti mortali per cercare di garantire comunque il funzionamento della struttura anche con le persone che abbiamo e con il supporto di alcuni tirocinanti che hanno iniziato un percorso formativo tre anni fa con la provincia poi proseguito dalla regione e adesso portato a compimento dall'amministrazione centrale in virtù di una previsione contenuta nella legge di stabilità del 2012 che ha consentito di prevedere 210 ore a testa per il completamento di questo percorso che si è portato avanti con successo perché hanno acquisito adesso queste persone delle competenze specifiche, un'ottima professionalità perché hanno capito anche come bisogna muoversi nell'attività di supporto all'attività giudiziaria nel senso che hanno acquisito quei parametri, quei connotati di discrezione e di riservatezza che impone il supporto all'attività giudiziaria tanto da diventare elementi nevralgici di tutta la struttura del Tribunale ora il fatto che si stanno concludendo queste ore nel mese di novembre alcuni hanno finito pochi giorni fa, alcuni stanno finendo mette in crisi il Tribunale anche perché avevamo iniziato anche dei progetti che le coinvolgeva in prima persona e che adesso abbiamo un po' di difficoltà a portare a termine ne potrei citare tanti ma sicuramente è importante la razionalizzazione degli archivi che stavamo facendo con il supporto di queste persone anche per ospitare il carico che proviene dalla chiusura della sezione di staccata di Bracciano ma poi anche lo smaltimento dell'arretrato in giacenza presso diversi servizi creatosi negli anni passati proprio per questa insufficienza di organico con l'aiuto di questi tirocinanti stavamo in qualche modo raggiungendo qualche risultato che adesso vediamo quasi, non dico compromesso ma insomma in seria difficoltà difficoltà che va ad aggiungersi anche a una serie di carenze strutturali che al Tribunale come cancelli che rimangono chiusi, ascensori che si bloccano Sì, purtroppo anche la situazione logistica dà dei problemi noi l'abbiamo segnalato anche insieme al Presidente e al Comune con diverse richieste di intervento, interventi di manutenzione ordinaria sono necessari interventi di falegnameria, di idraulica, sull'impianto elettrico anche sulle linee telefoniche, purtroppo non abbiamo i telefoni funzionanti c'è anche difficile riuscire a organizzare insomma anche un sito con tutti i numeri di telefono perché dobbiamo mettere a posto anche questi elementi, questi tasselli l'abbiamo segnalato al Comune, il Comune ha dato la massima disponibilità proprio in questa attività di collaborazione certamente fa i conti con le risorse che ha a disposizione e quindi speriamo insomma che con una buona sinergia si riesca anche a risolvere questi problemi che indubbiamente incidono anche sulla qualità del servizio che noi diamo all'utenza e a proposito della carenza di personale che rischia oltretutto di allungare i tempi e dei processi oggi è arrivato un nuovo rinvio del processo sul caso di Via Pinelli motivo del rinvio è il trasferimento del giudice Bruno Azzolini che era il presidente del collegio giudicante che dunque dovrà necessariamente essere ricomposto ricomposizione che si verificherà il prossimo 21 novembre data in cui è stato aggiornato il processo con i legali dei 5 imputati che dovranno decidere se accordare o meno la prosecuzione del dibattimento da dove si è interrotto oppure se dovrà come sembra più probabile ricominciare dall'inizio in questo caso per fortuna il danno sarà minimo visto che finora è stato ascoltato un solo testimone ovvero il comandante della stazione dei carabinieri di Via Antonio da Sangallo Giuliano Mangoni Freno a mano ancora tirato per quella che vuole essere la Ferrari del mare secondo il motto della Privilege Yardi era stata infatti fissata per l'11-12 novembre la messa a mare e il conseguente varo della P430 la prima nave della flotta realizzata all'interno del cantiere nella zona nord del porto e ancora l'atteso battesimo è stato rinviato come sentiamo in questo servizio Freno a mano ancora tirato per quella che vuole essere la Ferrari del mare secondo il motto della Privilege Yardi era stata infatti fissata per l'11-12 novembre la messa a mare ed il conseguente varo della P430 la prima nave della flotta realizzata all'interno del cantiere nella zona nord del porto e invece l'atteso battesimo è stato ancora rinviato qualche mese fa campeggiava sull'impalcatura esterna un mega striscione che indicava proprio le date del varo ma né ieri né tantomeno oggi si è proceduto con le operazioni se ne riparlerà nei primi mesi dell'anno nuovo se tutto andrà come da programma e se non ci saranno ulteriori ostacoli da superare siamo in attesa dello sblocco di un importante finanziamento ha spiegato il direttore amministrativo della Privilege Yard Antonio Battista lo aspettavamo per maggio e invece dovrebbe arrivare per fine novembre da quel momento in poi ci serviranno almeno un paio di mesi per completare le lavorazioni e procedere al varo dell'imbarcazione lavoreremo H24 per poter recuperare il tempo perso si tratta di un'enorme struttura di 127 metri di lunghezza per un peso di oltre 6.000 tonnellate proprio pare per le sue proporzioni diventa alquanto delicata la fase di trasferimento dalla terra al mare con l'imbarcazione che dovrà variare i suoi punti di appoggio i robusti ponteggi che ora la sorreggono saranno gradualmente sostituiti con centinaia di assi e ruote che al momento opportuno cominceranno a spostarsi verso mare verso la nuova Darsena Traghetti facendo scivolare il mega yacht in avanti su un enorme pontone che si gonfierà per mantenere il livello in piano durante il trasbordo e poi si autoaffonderà adagiando la nave sull'acqua al momento siamo all'80% della costruzione dell'imbarcazione aggiunto il direttore amministrativo dobbiamo terminare gli arredi peraltro già pronti dai fornitori ma non ancora consegnati in attesa dei pagamenti le banche comunque sono determinate a finanziarci entro la fine di novembre e questo ci rende sereni intanto stringiamo i denti lo stesso Battista ha poi precisato come per un'opera del genere non sia stato speso neanche un euro di finanziamento pubblico andiamo avanti con le nostre risorse aggiunto abbiamo avuto almeno 4 due diligence tanti controlli tutti con esito positivo per noi ma ovviamente dobbiamo fare i conti con un momento delicato abbiamo chiesto aiuto ai fornitori per i pagamenti investendo tutte le nostre energie sui lavoratori al momento abbiamo pagato tutto il mese di agosto e stiamo procedendo in questi giorni con settembre stiamo facendo tutto il possibile una crociera di 5 mesi per pubblicizzare il Made in Italy soprattutto in fatto di armamenti ed equipaggiamenti militari a possibili acquirenti dell'Africa e del Golfo Arabico questa è la denuncia dei sei parlamentari di Sinistra Ecologia e Libertà Franco Bordo, Arturo Scotto, Donatella Duranti, Michele Piras e Giulio Marcon che hanno presentato un'interrogazione parlamentare al governo sulla missione di promozione delle eccellenze italiane attuata dal gruppo navale della Portaerei Cavour in 13 paesi africani del Golfo Persico che avrà inizio domani dal porto di Civitavecchia secondo i parlamentari alla fiera allestita sulla Portaerei è prevista una preponderante presenza di imprese industriali del settore militare e di produzione di sistemi d'arma con relativo marketing dei propri prodotti considerato che aziende del gruppo Finmeccanica si legge nel testo dell'interrogazione presentata al governo De Vendoliani presenteranno a bordo della Cavour e sul ponte di volo la loro produzione più nella loro interrogazione i sia parlamentari di sinistra ecologia e libertà rilevano tra l'altro come alcuni dei paesi toccati dalla crociera del gruppo navale Cavour sono senza una democrazia parlamentare sono caratterizzati da regimi autoritari in alcuni di questi sono in corso conflitti armati ed è proprio per questo motivo che SEL chiede al governo si ritenga idoneo l'uso di un gruppo navale della nostra flotta militare per scopi di natura commerciale relativamente a prodotti di natura bellica e ancora SEL chiede al governo se sia corretta la scelta di usare ingenti risorse del bilancio dello Stato circa 20 milioni di euro per un'iniziativa con tali caratteristiche se si considera legittime e opportuna concludono la scelta di andare a vendere armamenti a paesi governati da regimi non democratici o con conflitti interni in corso utilizzando peraltro strutture dello Stato italiano è tornata con un bagaglio di soddisfazioni emozioni e progetti per il futuro la delegazione Civita Vecchisi ospite nei giorni scorsi di Ishinomaki in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni dalla partenza del samurai a Segura Sunenaga alla volta dell'Europa di Roma sentiamo come è andata nelle parole del vice sindaco Enrico Luciani La delegazione Civita Vecchisi torna da Ishinomaki arricchita e torna con diversi progetti all'orizzonte Sì, intanto sottolineiamo il clima con il quale siamo stati accolti dal primo momento che siamo arrivati a Ishinomaki la festosità e il calore che abbiamo sentito da queste persone ci fa capire che ormai siamo oltre un semplice gemellaggio istituzionale che è molto importante siamo arrivati ormai a un clima di amicizia e di rapporto proprio di fratellanza che questo già ci fa ben sperare anche per i progetti come sottolineavi che abbiamo imbastito il primo e più importante insomma è quello che oltre ai rapporti culturali di interscambio degli studenti quindi l'accoglienza da parte delle famiglie civichese e delle famiglie giapponesi di nostri studenti questo continuerà ad andare avanti ma ce n'è un altro che ho proposto ai nostri colleghi giapponesi quelli di cercare di progettare di far diventare le nostre due città due punti di eccellenza per studenti chiaramente universitari che nelle varie discipline noi immaginiamo quelle scientifiche visto che il Giappone dal punto di vista tecnologico e del know-how è un paese assolutamente all'avanguardia dove noi possiamo avere dei ragazzi che magari durante i mesi estivi possono fare degli stage degli approfondimenti sia per la lingua e sia però anche per le materie tecniche possono servire a un arricchimento e a un proseguo del loro percorso professionale poi appena finiti gli studi ecco su questo abbiamo trovato da parte soprattutto del sindaco e anche dell'amministrazione una condivisione e quindi io mi auguro che nei prossimi mesi attraverso anche la nostra delegata Carla Celani che ringrazio perché è stata veramente meravigliosa insieme a diciamo la nostra delegazione era Loretana Denaro come rappresentante del nostro ufficio di cerimoniale e il capo di gabinetto Patrizio De Felici e Carla Celani che poi ha condito tutto questo percorso perché attraverso il suo lavoro siamo riusciti ad avere un'organizzazione semplicemente perfetta ecco io credo ecco che ci sono tutte le basi perché in futuro riusciremo a portare avanti anche questi progetti nel 2015 ci sarà chiaramente la venuta della delegazione giapponese perché ci sarà diciamo ricorreranno per noi 400 anni dall'arrivo a Civitavecchia del Samurai a Sicura Tsunenaga che partì nel 613 ma arrivò a Civitavecchia nel 615 quindi nel 2015 noi altrettanto inviteremo la delegazione e spero che per quell'anno avremo anche consolidato non solo i rapporti istituzionali ma anche portato a termine qualche progetto Nuovo passo nel percorso di apertura all'esterno per gli studenti dell'Istituto Calamatta di Civitavecchia che ormai da qualche anno sono protagonisti del progetto Salad Bowl promosso dalla scuola in collaborazione con la fondazione Cari Cive del presidente Vincenzo Cacciaglia gli studenti hanno partecipato ad una lezione tenuta da Alessandro Battilocchio che in questi anni ha promosso decine di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale in diverse parti del mondo molte le domande e le curiosità dei ragazzi che hanno deciso di attivarsi immediatamente per dare una mano nelle prossime iniziative in programma già prima della fine dell'anno alcuni studenti hanno inoltre voluto informazioni aggiuntive sulla possibilità nell'estate 2014 di svolgere periodi di volontariato ed impegno civile ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità seguire ancora la nostra informazione di pubblicità di pubblicità Grazie.